Morì nel giugno 2018 a distanza di pochi giorni dall'operazione chirurgica di riduzione dello stomaco a cui si era sottoposta. Per la vicenda della 22enne di Sala Consilina, Rosaria Lobascio, nella giornata di domani il Tribunale di Nocere Inferiore dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta di archiviazione presentata dal PM nei confronti degli 11 sanitari indagati. Si tratta di 9 medici all'epoca in servizio presso l'ospedale di Mercato San Severino, dove la ragazza si era sottoposta a gastrectomia il 30 maggio e dove poi la sera prima della morte, l'8 giugno, venne sottoposta operazione d'urgenza dopo che si era sentita male e due medici del pronto soccorso di Polla, dove Rosaria si era recata non appena aveva accusato un malore qualche giorno dopo l'intervento allo stomaco. Erano stati da subito iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo ma la perizia dei medici legali incaricati aveva escluso che la morte fosse intervenuta a seguito delle condotte dei sanitari. Di qui la richiesta di archiviazione del PM e il relativo decreto del GIP, a cui però si è opposta la famiglia di Rosaria assistita dall'avvocato Angelo Paladino, che ha contestato i ritardi della precedente perizia e le conclusioni a cui era arrivata, presentando un altro accertamento medico legale a firma del dottor Adamo Maiese, che giunge a tutt'altro esito. La famiglia ha chiesto che venisse annullata, dunque l'archiviazione disposta, ottenendo una nuova pronuncia. Domani il GIP del Tribunale di Nocere Inferiore sarà chiamato ad occuparsi di nuovo del caso e a decidere delle eventuali responsabilità mediche. Ci rammarichiamo, ha detto l'avvocato Paladino, che sono passati tre anni e non c'è ancora un punto fermo sulle responsabilità. Resta il fatto che una ragazza è morta dopo un intervento chirurgico e non per cause naturali e su questo vorremmo che si facesse chiarezza. La famiglia ha bisogno di avere una risposta.